Due giovani escursionisti sono riusciti a riprendere delle immagini eccezionali che stanno facendo il giro del mondo. Un umanoide dell'altezza di circa 40 centimetri, vestito con abiti medievali, è improvvisamente apparso davanti a loro camminando in maniera goffa. Forse si tratta di un ognomo dei boschi di cui parlano le leggende del luogo? Di piccole dimensioni, con una lunga barba e un cappello a punta. Questa creatura è davvero così pericolosa? Grazie a tutti.